Buongiorno, buongiorno a tutti voi dal telegiornale della Calabria. Dunque il giorno è arrivato, il giorno della solenne cerimonia di beatificazione di madre Elena Aiello, la religiosa nata a Montalto Fugo fondatrice delle suore minime della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Solenne cerimonia per cui è già pronto lo stadio San Vito di Cosenza, tra meno di mezz'ora l'apertura dei cancelli alle 17.30 la cerimonia appunto solenne, attese oltre 20.000 persone. E come dicevamo questa mattina il Papa Benedetto XVI nell'udienza generale a Roma ha ricordato, sorelle Naiello ha detto il suo esempio, rafforsi il nostro amore per l'Eucarestia. Ma colleghiamoci in diretta per vedere come stanno andando i preparativi con lo stadio San Vito dove c'è per noi Anna Rosa Macri. Buongiorno, a te la linea dunque. Buongiorno, buongiorno a tutti, eccomi qua, io mi trovo molto indegnamente ai piedi di questo palco che tra qualche ora diventerà un grande altare dove il prefetto per la congregazione delle cause dei Santi, Cardinale Amato insieme al nostro arcivescovo Nunnari celebrerà la messa di beatificazione di Suor Elena Aiello di fronte, l'avete appena detto, a 20.000 fedeli. E chissà se davvero questa piccola donna di Montalto Fugo, figlia di un sarto senza grande istruzione, una donna semplice, ma che portò la croce di un corpo dilaniato da sofferenze atroci, ma l'anima celeste, celeste di generosità. Ecco, chissà se avrebbe mai pensato che 50 anni dopo la sua morte sarebbe accaduto tutto questo, davvero mistero della fede per chi ci crede, mistero e basta per chi non ci crede. Ma il sospetto che di lassù ci sia un super regista che sta organizzando questo grandissimo evento, e la parola stavolta va proprio detta, ci viene, a guardare le facce pulite di centinaia e centinaia di giovani che da giorni stanno lavorando volontariamente perché tutto sia a posto, perché la macchina sia perfetta. E la macchina crediamo che è davvero perfetta. Mara Martelli è andata a curiosare tra la gente che sta preparando, tra la gente che sta lavorando. Vediamo che cosa ha preparato per noi. E questa è un'area importante perché qui fra poco entreranno i cardinali e i vescovi a vestirsi e dunque a prepararsi per il grande evento. Quanti fedeli stanno per arrivare? Secondo le stime che abbiamo dai pass che sono stati prenotati, superiamo i 20.000 fedeli. Quanti volontari siete oggi qui a Cosenza? 500 volontari che siamo suddivisi tra associazioni di volontariato, quindi protezione civile e altre associazioni, e volontari della parrocchia. Un po' di ombra sotto questo grande sole si sta male? Ma no, non si sta male, però ci prepariamo alla giornata. Quante composizioni vi sono state ordinate? 8-9 qua e poi in chiesa la madre Elena. Quante bottigliette d'acqua saranno distribuite per esempio? Allora noi abbiamo una copertura di circa 10.000 bottigliette di acqua che verranno distribuite ai fedeli. Questo è il kit del pellegrino che distribuirete nel momento stesso in cui entreranno i fedeli? Sì esattamente, nel momento in cui arrivano i pellegrini e noi consegneremo questo kit. Grazie all'incontro con una suora mi è stata presentata questa figura stupenda, di carità, di amore, di testimonianza verso i più piccoli. Che fai nella vita?